bella regà mi raccomando dally fai un altro video dove io dove tu dici che io piango perché son falso dove metto le musiche perché devo attrarre le scimmie mi raccomando fallo devo fare questo video perché tanto aspettate va che me l'ho dimenticato di accendere l'audio buono così per fare i cornetti con la nutella eccolo qua ok devo fare questo video qua perché son costretto dato che è uscito un video per l'appunto dove vengo aggredito a romics perché si parla di aggressione da vegas di 18 anni dato che ho letto dei commenti dove dicevano ma sarà un ragazzino eccetera 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 va bene io non volevo farlo questo video qua ma veramente volevo farlo questo video qua sono più arrabbiato che deluso perché sono deluso che arrabbiato sapete io ne ho parlato con vegas che come me una persona molto coscienziosa secondo me sapete che c'è io dico le cose come come le penso io in questo video perché non me ne frego un cazzo io e vegas siamo le scimmie più intelligenti della comunità italiana di youtube a livello di marketing a livello di di cervello non capite niente poi fate un cazzo vi pare e avevamo pensato come potessi approcciare questo discorso come poter fare un video giusto per non sbagliare ma tanto mi ero guardate raga mi ero preparato anche a fare un video un po stupido cioè per dire mi ero comprato mi ero andato a fare le scimmie la nutella però non mi va più di fare un video stupido perché volevo fare un video stupido su tutto ciò ma visto quello che sta accadendo non mi sembra più il caso tanto sapete adesso mi vedete così ma a me fra due giorni mi vedete così ma vi racconto io la storia com'è andata perché vedendo un video probabilmente non capite niente non capite niente e non capite niente e spero che questo video arrivi a determinate persone capiscano quello che hanno creato perché è colpa di vegas e fatta lucia che stanno su questa community non si rendono conto perché sono delle scimmie e vabbè ora incominciamo mattone dio yogurt dio banana no no no